ciao a tutti ragazzi sono Gondo di T422 e oggi siamo ritornati in un nuovissimo video in un nuovissimo gameplay ragazzi io li stavo accassi giocando sul play store e siccome è inside che è un gioco che è un gioco di 6 persone soprattutto io ho visto anche il mio telefono ho deciso di provarlo per vedere cosa ne usciva fuori quindi ragazzi iniziamo io sono questo bambino leggermente pallido dato tutto il tema del gioco mi ricorda tantissimo limbo che è un gioco che c'era c'era tantissimo tempo allora andiamo avanti c'è un camion chi erano quelli ragazzi io non facevoci domande e continuiamo ad andare avanti cazzo aspetta ragazzi quanto sono brutti questi cazzo ok poi non ho sentito come si spinge questo è tutto saia no ragazzi stai da spingere questa cosa operato arco trato e stiamo qui ok andiamo non ci sono accorti per intorno continuo senza nessun problema come salgo forse devo fare un super salto vai no vai nia raga che devo fare ciò ma dovete vedere i comandi ecco a muovo ti afferro salta ragazzi ci sono troppi comandi veramente se no io non posso salire qua se non mi dici come che due palle eh infatti ragazzi butta giù sali vai ok siamo dei geni oh cazzo fucking 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 oh mia dai cazzo corri porco due vai succhia milano pezzo di un cara del cazzo allora continuo ad andare avanti ah tra l'altro ragazzi volevo dire che oggi non mi ha portato Outlast perchè praticamente stamattina ho registrato un video su Mr Blower solamente che mi sono dimenticato il microfono di chi accenderlo quindi praticamente il video è completamente muto quindi ragazzi o domani o tra un po' potrei fare di nuovo il video per iniziare il gioco da capo che non avrà rottura di coglioni perchè ragazzi sono andato non avanti di più cazzo corri 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 vai 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 cosa cazzo è atto ragazzi non so come minchia si nasconde quindi sono dei bastardi perchè sono costato a stamattina qui ma qui non ci vedono no ragazzi ci vedono ah ho capito corri 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 vai 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 cazzo sono un cazzo di genio a parte che altro che genialità qui in questo momento mi ha dovuto per andare avanti e dovrebbe essere questo ma noi continuiamo allora si sono fermati cazzo no lo vedo cazzo cazzo corri vai vai cazzo no 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 bastardo allora mi sto reggimento rompendo i testicoli cazzo corri corri si vabbè quindi raga non mi devo proprio far vedere forco due per rompimento di cazzo si cazzo vai dai vai 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 e vabbè raga quanti sono porco due vai dai 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 scelta io vabbè l'abbè fatto ragazzi ci ho pensato no non andare sopra no ma sono solo 5 secondi di attacco e sono morto in 37 millisecondi vai no 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 vabbè raga aspettavo che il fro si sposti e poi continuano a notare felicemente per non farci vedere raga eeeh what the fuck maiali morti poveri maiali vabbè vabbè no tanto conferre in mezzo alleppano vaccare la cosa più ambicua che possa esserci dove cazzo siamo perché ci sono un 200 miliardiZZO di maglie di morti Ancora maiali morti Eh Vabbè Poveri maiali Una corda Vai Vai Vabbè Ok, always found that one Mate Ok Ok Raga non so per niente quello che sto facendo Dobbiamo buttare quella balla di piano vero? Sì Sì raga ma non cade Qualcosa che non va Vedete come pochini Raga perché penso che debbano fare una cosa che io non voglio sapere Vedete come pochini entrate qui dentro Dove no? Entrate qui dentro pulcini So che è una cosa brutta ma dovete farlo qui dentro Entrate Ah Ho capito Mira in qua Mi dispiace pulcini Nooo Ah non muoio no Ok raga Vedete qui Vedete qui Tutto questa parte Venita 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 Bravi Forse ragazzi ne vanno ad una persona Dai chissà quanto questi poveri pulcini Dai corri 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 Oh i pulcini raga Andio pulcini E' stato uno non riconoscerli E' stato uno non riconoscerli Uuuuuh No 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 Perchè dio Aspetto conto può essere ritardato per buttarsi Ehh Vai Che schifo non l'avevo mai fatto Allora ragazzi Penso che il video possa finire qua perchè già è piaciuto E' stato parecchio Siamo arrivati in una parte del gioco molto Ah siamo arrivati molto avanti col gioco Ehh Spero anche il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto un bel tanto di like Iscrivetevi al canale Ehh Ci vediamo al prossimo video Bella raga